Ciao Valerio! Massimo, ce l'ho! Questa volta ce l'ho! Il progetto della mia start-up! Ha fatto il geometra questo? Beh, questo è il mio capannone, la start-up, la mia azienda come la voglio! Allora, sulla ruota di Foggia vi giocate 15, 24, 71, 6, 1000, fate 10, 00, 00, non so! Perché non si dovevano buttare due numeri? Questo l'ha fatto il geometra, ha disegnato le corna di questa, o la cresta, cos'è? C'è un'azienda di galli, un'azienda di con la cresta? Eh sì, in effetti è proprio produzione di uova, con i galli, i galli fanno un sacco di uova! Gallo tra uovo! Sì, sì, guarda, sarò il primo nel settore! Perfetto, allora, va così, questo lo buddi, spero che ti richiedi i soldi in geometra che te l'ha fatta, chiami Fabio Logishi e ti fai dare tutte le informazioni per venire al corso, start-up! C'era uno che mi ha detto start-up l'altra volta, sì, e tu cosa gli hai risposto? Che se non è start-up è pampagnato, sta calzato per venire in mezzo, porchi modo, porchi modo! Va bene, allora vado a chiamare Fabio, sbianchetto, 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 sbiancheggio tutto, sbiancheggio, ciao! Valerio, ti qua, mi porti tu al corso, ciao Valerio!